Cosa? Sempre peggio Sempre peggio Ragazzi Nuova recensione trash Sono allibito Allibito Andiamo con ordine Allora, le recensioni trash Non hanno nessuna Nessuna intenzione Di essere offensive verso autore Casa editrice, fan del libro Ok In questo caso trattiamo di un'autrice Che ho già conosciuto Tramite appunto le recensioni trash E sto parlando di Leonora Gaggero Una ragazza molto simpatica Molto carina, molto alla mano Che ha ottenuto grande successo Ad esempio come attrice E come influencer Il libro di oggi è L'ultimo respiro Ed è il suo terzo romanzo Il primo l'avevamo già discusso Questo libro però diciamo che È un capolavoro del trash È grottesco da quanto è bello È sconvolgente Proprio per i livelli di trash contenuti Sono sconcertato Sembra un remake di love Sotto sostanze psichedeliche Ok Andiamo con ordine Perché sono molto confuso Allora, a livello di scrittura È decisamente migliorato un pochettino Rispetto al primo libro Ma è proprio la storia A urlare Surrealismo A urlare Disagio Ed è una cosa che mi ferisce Ma che allo stesso tempo Vivo come un'estasi mistica Come qualcosa di splendido Che finalmente ha ottenuto Ragione di esistere E partirei subito Saltando i convenevoli Dicendo appunto Che questa è una mia opinione Se vi è piaciuto il libro Scrivetemi qua sotto Perché Ovviamente mantenendo maturità E concretezza Il libro in questione Si apre in modo quasi evocativo Si apre come Se fosse media stress Se vogliamo Con Scritto quasi in versi Con la nostra cosina La nostra protagonista Che si chiama Cassiopea Detta Cass Che regge una pistola Le mani che hanno tenuto Quelle di lui con sicurezza Ora tremano Mentre impugnano una pistola La pistola Bang Io Cass Harris Ho appena sparato All'amore della mia vita Allora Questo libro È il classico libro Love story Ragazza sciapa Incontra bad boy Che si odena Poi si amano Con l'aggiunta di thriller A sfondo mafioso Ok Preparatevi Iniziamo Ovviamente Quello che vi ho raccontato Era un flashback E noi conosciamo La nostra cosina Cassiopea Detta Cass È una ragazza Comunque molto intraprendente Ovviamente È vergine Ovviamente È bella Ma non sa di esserlo Ma è Diciamo Un filino intraprendente Nel senso che poi Lei è anche abbastanza Una Che mette Anima e corpo Nelle sue passioni Ad esempio È super appassionata Di sport In particolare Di box E lei pratica La box Da quando aveva Dieci anni Lei ci presenta Poi il suo coach Sportivo Amico del padre Definito così All'inizio Io pensavo fosse Il bad boy Del racconto Poi per fortuna Ho scoperto Che Non lo era In fondo In fondo alla sala C'era un uomo Un enorme Sudatissimo Pieno di tatuaggi Su tutto il corpo Ne sta parlando Quasi come se fosse Una cosa intrigante Persino Sulla testa Completamente calva Avevo pensato Che nemmeno Braccio di ferro E brutto insieme Avrebbero potuto Avere la meglio Su di lui Vabbè Comunque Dopo l'allenamento Dopo tutto Suo disagio Conosciamo Entriamo Nel vivo Della storia La migliore amica Di Cass April È una ragazza Diciamo Che si è fatta Trascinare Nelle classiche Relazioni Tra Asgri Il suo La sua presenza All'interno del libro In realtà Non è così Rilevante Se non che Serve un po' Da deus ex macchina Per far incontrare La cosina Con il bad boy Di turno Ok Allora April Praticamente Chiama cosina E dice Cass Non trovo Luke Mi ha lasciata Qui da sola In un locale Pieno di gente E April Sembra anche Mezza sbronza Quindi Se fosse una mia amica A chiamarmi In queste condizioni Io mi spaventerei A morte Cioè Comunque Luke È il tipo Con cui April Si frequenta Lei è disperata Cioè Insomma Cass Dovrebbe agire Con grande Angoscia E invece L'amica è in pericolo Dice che ha paura E cosa lo dice E Cass Cosa fa? Non vado A cosa pensa Soprattutto Non vado pazza Per il trucco Non ho la pazienza Nelle abilità Necessarie Per dedicarmi All'arte Del make up Ma provo Comunque a darmi Un tono Un tocco Di eleganza Chissà Magari un giorno Avrò un ragazzo Che mi dirà Quanto sono bella Allora forse Varà la pena Passare ora in bagno A prepararmi Per un appuntamento Cioè questa Spiegarci Continua 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 Senza virgola Andrò Ho deciso Ho deciso Di tatuarmi Questa parola Per mettere In chiaro Le cose Troppa gente Mi ha deluso E non ho intenzione Di aprirmi con nessuno Stai della larga Sono una causa persa Scopriamo sostanzialmente Da quel poco Che ci dice all'inizio Che lui era molto legato A una ragazza Millie E questa Millie Non è riuscito A salvarla L'ha trascurata Diciamo Più avanti Nella storia Scopriremo Che Ve lo spoilerò subito Che Millie Era malata Lui non l'ha dedicato Il tempo adeguato E quindi Si è sentito Diciamo Un po' Una storia Già sentita Inadeguato A persona A persona Che amava E quindi È diventato uno stronzo Sostanzialmente Vabbè Inutile Cass arriva nel locale Perché ovviamente È il locale In cui April È disperata Bene Cerca l'amica disperata Ma Non gliene frega niente In realtà Perché come abbiamo capito A Cass Non gliene frega niente Pensa a truccarsi A fare la moda A dirci che non ha mai avuto Un fidanzato E infatti I suoi occhi Cadono subito su Aiden I suoi tatuaggi guizzano Sembrano muoversi Sulla pelle E via con i tatuaggi D'occhi azzurri Perché poi parla degli occhi Gli occhi azzurri Bellissimi Trova April Alla fine Cosina riesce A trovare l'amica E forse Era meglio lasciarla lì Perché Cosina L'amica April ci dice Dice alla sua amica Ti odio Sei bella Che con i pantaloni Della tuta La devi piantare Non hai rispetto Per chi passa Ore e ore In bagno A prepararsi Ma cosa Sei anche preparata Prima di uscire Vabbè che ci ha detto Che ci ha detto Che non ci mette Ore e ore Ma comunque Fossi stato in cast Avrei detto Ma vacia Pirate Me ne sarei andata Ma cos'è sta storia Questa qui Che mi chiama Bi 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 E poi quando arriva Non ti odio Perché sei bella Con la tuta Vabbè comunque Scopriamo che Cosina Ha gli occhi verdi Non ti pareva E così Arriva Cosino Che le offre da bere È un ragazzo Che ha un profumo Che sa di pericolo Sembra che questo libro Si è stato scritto Apposta Per Essere recensito Nella rubrica Io lo adoro È delirante Come neanche mai Dilemma Is You Dei tempi d'oro Fantas È stupendo Nel trash Cosina è triste Perché il padre assente È uno che È uno che non c'è mai Eccetera eccetera Ma Ma È uno che non c'è mai Non si ricorda Il compleanno Vabbè Cose familiari Ma Attenzione Una farfalla Una farfalla Entra dalla finestra Di Cosina E si posa Sulla sacca Della palestra E quindi Lei capisce Che deve andare in palestra A sfogare la rabbia Bellissimo Bellissimo Si mette il profumo Per andare in palestra Questa Ma che davvero Ma se poi Tra dieci minuti Suderai che manco Nella sauna E puzzerai Come un pesce morto Cioè Cosa ti profumi Si profuma Per andare E si trucca Per andare a salvare Un'amica che sta morendo Probabilmente Anche se non è così Si mette il profumo Per andare in palestra Boh Vabbè Non lo so Cioè si proprio Si profuma tutta Vabbè E domenica Poi Lei va in palestra La domenica mattina All'alba Tipo Questa cosa Comunque è coerente Perché appunto L'amico di suo padre Mark Le apre la palestra Quando vuole Quando lei vuole Sostanzialmente Può andare a cercare di notte Quindi ci sta Ma ci sono dei tizi In completo Da sartoria Tipo proprio La gang del bosco Che sta lì Dall'altro lato Mentre lei è lì Con le cuffie A fare la moda Mentre va In palestra Questi tizi Oscuri In abito elegante La fissano Da lontano E dicono Ma sarebbe questo Il linguaggio Delle signorine Di oggi Ma perché parlano Come nell'ottocento Tra l'altro viene detto Che sono anche giovani Questi tizi Vabbè E questo perché lei Stava Era con il cappuccio Stava piovendo Vabbè E stava dicendo Merda 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 Sostanzialmente Adoro Io ho detto Adoro Sono in completo Sartoria Perché sicuramente Sono della mala Sono della mala E infatti Comunque Lei si chiede Cioè Poi cosa ci fanno La domenica mattina Dei tizi Della mala Che aspettano lì Sul marciapiede Cioè Sono andati a prendersi Il cappuccino Dopo aver sparato A gente a caso Vanno a prendersi Il cappuccino al bar Anziché fare after Vanno al bar O dal cornettaio E stanno lì A fare gossip Su chi è morto Su chi deve loro Dei soldi Fantastico Cosina comunque Adoro La adoro Perché insulta Il look dei tizi Perché a gente dice Ma chi si mette In abiti formali Alle domenica mattina Siete sicuramente Delle persone Poco raccomandabili E lei viene definita Attenzione Grandissima Shade Perché la fashion police Non perdona E quindi I tizi la definiscono Ah sei un osso duro Tipo Oh no Fashion police Adoro Vabbè Lei libidona Tipo Shatti E se ne va Il palestra E c'è praticamente Il bonazzo C'è Hayden Il cosino Che tira pugni Al sacco di cosina Ma cosa Quel lei del maledetto Ovviamente Inizia ad essere ovunque E cosina Mi sta simpatica Devo dire Perché Vede il tatuaggio Heartbreaker Che lui ha qui Che lui se la tirava Perché io sono Un osso duro Spezzo i cuori Pi 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 Però cosina dice Quanto è ridicolo La prima cosa sensata Adoro Poi tra l'altro Cosa che non ho capito Lei si mette il profumo Per andare in palestra Ma lui non è da meno Che va In palestra Con gli skinny jeans E una certa Esce a fumare E lei Non me ne offri una Lui gliela offre È stato anche gentile E lei Non fumo Non vorrei essere I tuoi polmoni Comunque adoro Che la cosina In questo caso Fa shade Così Perché le gira E lui Io Ma lui È boom bitch Proprio Perché lei dice Non fumo Non vorrei essere I tuoi polmoni E lui E io non vorrei essere La tua frangia Cioè ma è una drag Di RuPaul Drag Race Così no Adoro Le fa le shade Sul Sul look Lui pensa poi Queste ragazzine Vogliono solo Un ragazzo Un po' pericoloso Che le metta Al loro posto Certo Se poi Pericoloso Uno che scrive Heartbreaker qui Cioè come minimo Merita il trash Vabbè Fatto sta che Luke Il tizio che ha abbandonato April al locale È il miglior amico Dell'energumeno Ovviamente E lui Cammina Sostanzialmente Si scopre questa cosa E intanto C'è Luke Che sta uscendo Dalla palestra No Luke Aiden Che è il cosino Bad boy Che sta uscendo Dalla palestra Tutto baldo E contento E ci sono ancora I cornettai Che tra l'altro Ora il capo Lo chiameremo What fashion Ho deciso così What fashion Ci sono i cornettai Che sono ancora lì A fare gossip Così Proprio Con i Facendo anche Gesticolando E urlando I loro piani E praticamente Dicono Parlottano E dicono Che vogliono colpire Una ragazza Million dollar baby Cioè una ragazza Che fa box E ovviamente Cosina E sostanzialmente La nostra cosina Oh no Allora lui Che riconosce Chi è il capo What fashion Scopre che si chiama Lauren Abate Ora Magari Ignoranza mia Ma Lauren Non è un nome da donna Vabbè Lui sostanzialmente Va e si allontana Perché E scopriamo Che Luke È uno spacciatore Bene Benissimo Comunque Che tenerezza Cosina Perché Cosa fa nel frattempo Mentre c'è La moda In giro Lei dice Adoro le cose vintage Vinili Le poneroide La musica di altri tempi Cosa ascolta I simple plan Adoro La tenerezza di Cosina Natta nel 2007 Che pensa I simple plan Musica Vintage Fantastico Cosina però C'ha un dramma Perché deve recuperare Assolutamente Il libro di biologia L'ha lasciato da April E ha un test il giorno dopo Test che neanche farà Tra l'altro E allora lei deve andare Da Cosina E pensa Cheat del testo Spero di non incontrare Nessuna gente Di moda Per strada Morto È un capolavoro Questo libro Come spero di non incontrare Nessuna gente di moda Per strada Per definire Quello là Che è il completo scuro What fashion Per me lui si chiamerà Sempre what fashion Vabbè Da April Lei va da April E lei è tutta fatta Si è appena fumata Il cannone Perché ovviamente Luke le spaccia la roba Ma c'è anche Aiden Che è contrario A queste cose Perché è un bad boy Ma diciamo che Dice no 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 Solo 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 il trash Lei è fatta Lui invece Si fuma una sigaretta normale E Cosina pensa Fisso i suoi occhi bellissimi Vabbè La sera Cosina viene costretta A andare a una festa Da questi qui Da questo scempio qui Ma uscendo di casa Con il libro di biologia Lei tra l'altro ha detto sì Poteva dire benissimo no Lei esce di casa Con il libro di biologia E oh no Ci sono ancora i cornettai I tipi moda La fissano con un ghigno Oh no Vabbè Lei tira dritto Dice che è sciatti E se ne va Alla festa C'è un tipo Vabbè C'è questa festa inutile Dove c'è il trash E lei si sente a disagio Perché tutti li muonano Fanno cose trasgressive È un copia e incolla Della scena di After Di Anna Todd Tra l'altro Ma alla festa C'è un tizio Che sta leggendo Call me by your name Tra l'altro Ok Questa scena Viene inserita Per farci capire Che questo ragazzo È diverso È un ragazzo Gentile Sensibile Un ottimo Un ottimo fidanzato ideale Per la nostra cosina Se ne legge Ma obiettivamente Quanto è cliché Presentare Il ragazzo Intellettuale Il ragazzo Che si sente a disagio Che porta il libro A una festa Dove tutti si ubriacano Si picchiano Io Non lo so Vabbè Lei pensa Tra l'altro Proprio superficiale Non intravedo tatuaggi È un buon segno Perché adesso Chi ha i tatuaggi Ricordiamocelo Complice After È un criminale A prescindere E poi Ha gli occhi verdi E ha delle fossette Tenerissime La combo Occhi verdi Fossette tenerissime Non vengono nominati Gli addominali Ma secondo me Lui ce li ha Cosina poi Si ritrova Praticamente Si ritrova A pensare Ad Aiden E dice Sarà mai possibile Sentite come 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 filosofeggia Sarà mai possibile E voi direte Il senso della vita Dell'esistenza Che cosa penserà Sarà mai possibile Che un bad boy Bad boy Tra parentesi Come li chiamano Nei romanzi Indossi un ciondolo Con una croce No vabbè È scritto apposta Così Cioè è scritto apposta Per essere trash Questo libro Cioè io Lo adoro Tra l'altro Lo adoro Lo adoro Non è un libro Che mi ha fatto arrabbiare Questo Era tantissimo Che non succedeva È un libro Dove ero piegato Dalle risate Continuiamo Allora Cosina gioca Ad obbligo e verità Adoro che comunque Lei pensi Il cliché continua Nella mia vita Cioè pure lei È convinta Che la sua vita Sia un libro trash Bellissimo Cosina dice A una bionda Perché lei Deve scegliere L'obbligo Da dare A una tizia Che tra l'altro È la stessa Che ci provava Con Aiden Al locale E dice Scemissima Pure lei Perché dice Baccia uno dei presenti E la bionda E la bionda Ok Bitch E va a baciarsi Con Aiden E Cosina Falza Falza Che dice Non mi fa Ne caldo Ne freddo Tra l'altro Quando tocca a lei Invece fare La penitenza Effettiva A Cosina Sceglie Obbligo Ma sei Rincoglionita Però Soprattutto quando È la bionda Che deve scegliere Cosa farti fare Io non lo so I personaggi A volte reagiscono In modi assurdi Ovviamente La bionda Le chiede Baccia Luke 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 lo spacciatore Cosina si rifiuta Perché lei Non vuole ferire I sentimenti di April E quindi Sceglie la penitenza Deve bere Dieci shot Di vodka Ovviamente Lei si sbronza Un tizio La limona Tra l'altro È what fashion Ora Perché è what fashion È invitato A una festa Di universitari Vabbè È what fashion Che tra l'altro Sappiamo perché Vuole rapire le tipe Perché non è capace Assolutamente Di parlare Con gli esseri umani Punta sul fatto Che è potente Della mala Però come fai A rimorchiare una Dicendo I tuoi Come prima cosa I tuoi capelli Profumano di nuovo Di buono Le sussurra Cioè Ma I tuoi capelli Profumano di buono E Chanteclair Cos'è sta roba Vabbè Lei è sbronza Per fortuna Non capisce Però E tra l'altro Dice Ma vai via E va Va in cerca Del bagno E sorprende Aiden a letto Con una Vabbè What fashion Intanto dice Lei sarà mia Lui Poi arriva Aiden Che sa che What fashion Punta cosina E allora Lui le dice Sostanzialmente Che deve vomitare Per tirarsi Romantico Quindi c'è questa scena In cui lei Vagheggia Sugli occhi di lui I suoi occhi azzurri Deve aver sofferto molto Il giorno dopo Cosina si sveglia In hangover Con un maglietto Con un maglione Gucci Addosso A caso Ma dice Oh no Sono state rapita Aiuto 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 E invece Ok E Aiden Che l'ha portata Effettivamente A casa Invece per fortuna Tra l'altro Aiden Ha anche lui Come cosina Delle polaroide Attaccate allo specchio Del bagno Mentre cosina Emette la roba Tumblr Cosino Mette delle Modelle nude Delle pornoattrici Non ho capito Vabbè Trash Questo libro È una bomba Esplosiva Vabbè Comunque Lei mastica Tra l'altro Una gomma In modo quasi Provocante Cosa E a caso Cosina dice Ma secondo me Luke Assomiglia un po' A Den Humphrey Di Gossip Girl Andiamo bene Ecco perché Mi sta sulle palle Allora Lei è messa in punizione Perché comunque Non è andata a scuola Non è tornata a casa E April La va a trovare April Sentite Le conversazioni Filosofiche Che hanno Queste due E April Sì Cosa rende Un ragazzo Un bad boy No Cass Ti voglio bene Da morire E se fossi Lesbica Verrei a letto Con te Senza pensarci Due volte Ma spesso Le tue domande Sono le più stupide Che abbia mai sentito Adoro È così Sbagliato Questo dialogo Che È lei chiesi In confronto Napivella Napivella Cioè Sconvolto Mancano solo I nomi brutti Perché A parte che Cassiopea Vabbè È un po' meglio Di Bronaga Effettivamente Come nome Di un personaggio Di un romanzo Ma comunque Arriva tale Sam Personaggio inutile Inutilissimo Questa tizia Non serve a niente Allora Sam È una tizia Che viene descritta Come magrissima E rivela Cosina Che è stata Innamorata Di Aiden Una ragazza Scheletrica Abbiamo usato Questo termine Cass le offre Dei biscotti E Sam Dice Di aver avuto Problemi Con Aiden Perché comunque Un ragazzo difficile È problematico E aggiunge Il fatto Che Nonostante tutto Lui l'abbia aiutata Nel suo periodo Di anoressia feroce Che ora Comunque Di cui comunque Lei non è ancora guarita Cosina Pensa Cioè La sua leggerezza È infallibile Pensa Ho offerto Dei biscotti All'anoressica Sempre la mossa giusta Cass Il cielo Il cielo Vabbè Andiamo avanti Perché succede Troppa roba Cosino Si scopre Attraverso Il racconto Di Cass Di Sam Perché Sam Serve solo Per rivelare Sta roba Cosino Si è trovato Senza genitori Ok La madre è morta Di parto Il padre è dovuto scappare Perché ha avuto problemi Con la mala Lui Cosino Reagisce rompendo Una casa Come Ardyn Poi fa l'amore Con Sam E infine Si lancia Nel mondo Della moda Cosa? Si si lancia Nel mondo Della moda E torna A caso A Sacramento Che è la città Dove effettivamente Avviene tutto il disagio Poi torna a caso What Fashion Il malavitoso Lui le dice Sostanzialmente Vieni a casa mia Come vedete È bravissimo Lui È inquietantissimo Ed è bravissimo Nel provarci Con le ragazze E lei No E lui È colpa di Aiden Vero che non vuoi venire A casa mia Me la pagherà No È che sbagli Tutti gli approcci Scrivi al fumacupito E verrai che ti troveremo Una ragazza modaiola In grado di apprezzare I tuoi look Su su Vabbè Fatto sta che lei Riesce a scappare Da What Fashion Perché viene salvata Da Tim Che è il tizio Che mentre C'è una festa Dove tutti si sbronzano Legge Call me by your name Ok La salva A caso Sostanzialmente E in 0-2 Tutto sembra passato Nonostante Cosina Noti Che c'è un tizio Inquietante Che le fissa in casa Sostanzialmente Oltre a What Fashion Perché lancia anche i suoi uomini Che la seguono Non dice Nuno sbatte ciglio Perché ora è sicuro Con Tim Infatti tutto Sembra passato E i due Ascoltano il Simple Plan Assieme Vabbè What Fashion Intanto sfida Aiden Perché Aiden Ha capito Che c'è di mezzo lui Allora dice Lei sarà la mia donna Ma cosa Cosa Ma poi non ha senso Io mi aspettavo Che Cosina Avesse tipo Il padre Invischiato Con la malavita Dei disagi Di una certa portata No È solo Che Loren What Fashion Ha deciso Che gli piace Cosa Ma che non ha senso Il trash Cosino va a dire A Luke Suo amico Del drama Che è successo Con What Fashion Tipo Guarda Luke What Fashion Ha trovato una tizia Che non ha saputo Dare complimenti Su Luke Quindi lui si è innamorato Oh no Quindi devo salvare la ragazza E Luke Non fare nulla È pericoloso What Fashion È un malavitoso Cosino Non dorme tutta la notte Viene proprio detto Che non dorme tutta la notte Perché deve trovare Una soluzione E crolla al mattino Si addormenta Ma viene svegliato Da una chiamata Di What Fashion Che tra l'altro Ha il suo numero Adoro Che gli dice Non hai mantenuto La parola Perché lui Non doveva dire niente A nessuno Allora Lui dice Oh no Cosa ha fatto Quel cretino Del mio amico Che mi ha detto Di non fare nulla Tra l'altro Perché lui È pericoloso Chiama Luke E Luke dice Scusa zì Ero fatto E allora Ho scatenato una guerra Sono andato Da uno scagnozzo Di What Fashion E l'ho picchiato Ma scusa Ma perché Aiden giustamente Gli dà del cretino Dice Luke È scatenato una guerra E da qui in poi Il romanzo Impazzisce Ok Come se fosse stato sano Finora Allora Cosina è presa bene Da Tim Si mandano i messaggini Romantichini Che moda Ok Ma Aiden La costringe a salire in macchina Perché la loro vita È in pericolo Non potrai più tornare a casa Cioè perché Allora Questa scena è trash Perché lei Sale in macchina Perché vede Comunque Aiden preoccupato Ma il problema È che lui parte E lei non batte ciglio Cioè È tranquillissima E lui tra l'altro Le dice cose come Non potrai più tornare a casa E non le spiega Nulla Della storia Nulla E lei Riportami a casa Lui Non c'è più una casa Solo io e te È trashissima sta cosa Perché lui Lui poteva benissimo Dirle la situazione E invece sta zitto E vista così È creepy Perché sembra che lui L'abbia rapita Giustamente Vabbè E tu pensi Oddio E ora dove vanno Quanto guideranno Si fermano In un autogrill Tipo a dieci metri E si Non parlano Di quello che Del motivo Per questo C'è stato Sto trash Si battibeccano Sul fatto Che è Stava fissando Gli addominali Di lui Adoro Adoro Come va avanti Ah lui le racconta La storia trash Cioè Le spiega tutto Una certa Poi arriva un tizio Di what fashion Che li segue Perché succede così Nel romanzo Vengono costantemente Seguiti Perché loro si spostano Di dieci metri In dieci metri Fanno delle cose trash Arriva what fashion Fanno un po' di cagate E poi vanno Alla tappa successiva Cioè What fashion È pericoloso Come Come una caramella Aribo Cioè Assurdo Vabbè Comunque Il tizio di what fashion Viene steso da Aiden Ma il tizio di what fashion Prima di essere steso Ha detto Lui vuole la ragazza Quindi Cosina ha sentito E ha capito Che Oh mio dio C'entra anche lei In questa storia Quindi è per questo Che Aiden Mi ha rapito Ok Quindi ha senso Ok Vabbè Trash Vabbè Loro scappano Riescono a scappare Lui le chiede Dopo quello che è successo Da quanto ti alleni Lei Da quanto Da quando sono nata E lui Ecco perché è quel culo Cosa Cosa Lui la Questo video Sarà lunghissimo Lui la porta Al centro commerciale Allora Preparatevi al trash Lui è convinto Che devono far perdere Le tracce Ok Quindi devono liberarsi Dei vestiti E dei cellulari E rendersi Irriconoscibili Lui la porta Al centro commerciale Per comprare Dei nuovi abiti Che la rendano Irriconoscibile Lei Pensa E le dice Tipo Mettici pochi minuti Che dobbiamo scappare Ma non lo sa Che chiedere a una donna Di scegliere i vestiti In pochi minuti È come chiedere a un cane Di ballare Cioè io se fossi Aiden A questo punto Avrei detto In che casino Mi sono cacciato Cioè per questa cretina Sto rischiando la vita Con la mafia Vabbè A parte che la mafia Di What Fashion È pericolosa Quanto un cincillà Però vabbè Comunque Lei tra l'altro Lui la aspetta Mentre si sta cambiando E lei cretina Scappa E pensa tipo Libertà Libertà Faccio l'autostop Torno a casa Come una hippie Che moda Che bello Ma sei cretina Scema Scema Vabbè Aiden la riprende In macchina Ma poi tra l'altro È proprio scema Perché lei ha assistito Alla scena In cui vede Che la malavita La vuole Cosa scappa La libertà Faccio l'autostop Quella storia di Lauren Che vuole rapirmi È sicuramente Una cavolata Che si è inventato Aiden Per avermi per sé Ma non è vero L'hai visto Hai visto il tizio Che è stato steso Ma no Madonna Ma perché Aiden Ha rischiato la vita Per questa qui Per questa volta Io patteggio Per il bad boy Ve lo posso dire Poi tra l'altro Poverino Ve ne accorgerete Alla fine Poverino Finisce pure in merda Cioè è un ragazzo Che ha avuto La sfortuna Di incontrare Cosina Ok Vabbè Aiden la riprende In macchina Praticamente è scappata Di dieci metri Questa tizia Lui le brucia I vestiti E la costringe A vestirsi Da motociclista In pelle latex Disagio Questo è un po' Anche per il fatto Che è un abbigliamento Che lei non metterebbe mai Quindi riconoscibile Certo furbetto Non perché È un feticismo Per la pelle Vero no Lei va in bagno A cambiarsi Perché dice No non mi faccio vedere Ci mette troppo E lui dice Basta Mi sono rotto Apre la porta E lei Senza maglietta Oddio E lui Come al solito Elegantissimo Tanto non c'è nulla Da vedere Lei anziché Arrabbiarsi E fare domande E sconvolgersi A essere impaurita Lei pensa Ok Non avrò una terza Ma non c'è bisogno Di mettermi in imbarazzo Lui Sei incredibilmente sexy Vestita così Potresti assumermi Come personal stylist Allora Lui è la parodia Dei bad boy Comunque Potresti assumermi Come personal stylist Lei pensa Sono travolta Dall'istinto Di saltargli addosso Poi Lei gli consegna Il cellulare Per distruggerlo E gli chiede Dove hai messo il tuo Lui L'ho buttato Al cestino Dell'autogrill Come l'hai buttato In un cestino E non l'hai Non l'hai fatto L'hai buttato In un cestino In un luogo pubblico Cioè Lo sgamano subito Lui non è che sia Molto più una cima E lei E lei Lei risponde Ah ok Ma cosa Ok Mi meritate Di essere presi Da What Fashion Guarda Lui si spoglia Perché trovano Posto in un motel Ha un tatuaggio Con scritto Spericolato Sul toraccio E la notte Siccome non riescono A dormire Giocano ai mimi Ma cosa sto leggendo È fantastico La polizia intanto Cerca Cassiopea Cosina Già sanno di What Fashion Perché Perché What Fashion È stupido Come tutti i personaggi Del libro Sostanzialmente Tim Che è l'unico intelligente Anche se legge i libri Per farsi vedere Intellettuale Alle feste Ok Cosa su cui tra l'altro Non dissento Tim Ha sentito What Fashion Presentarsi a Cosina Mentre la importunava Come Lauren Che appunto È di solito Un nome da donna Quindi What Fashion È scemo Perché lui L'ha urlato E la polizia Ha scoperto Che è lui Il problema Perché esiste Un solo uomo Che si chiama Lauren A sacramento Io non ho parole Che top Vabbè Tim Best ever Comunque Lui la porta A fare un tatuaggio Vabbè E lei si fa tipo Una luna Ok E si fa anche Un tatuaggio Anche lui E noi sapremo Che l'avrà dedicato a lei Infatti Si è scritto Fly me to the moon Ok Ve la chiudo subito Sta roba Poi Lei scopre Che c'è un festival Musicale E lei ci vuole andare Ma ti pare Ma state scappando Ma cos'è sta vacanza Sto trip advisor Continuo Lui dice Ovviamente Che è una cattiva idea C'è un botto Di gente Sei scomparsa La polizia Ti cercherà Lei Ma hai 25 anni Divertiti Mio dio Ma quanto è scema Adoro Vabbè Al concerto Lui alla fine Si arrende Dice Vabbè Facciamoci Prendere Siamo carne da macello Dall'inizio del libro E comunque Sono tutti cretini Quindi sopravviveremo Lui la bacia sul collo Lei pensa Una scarica elettrica Mi percorre tutto il corpo La sua bocca è socchiusa Umida Ma un tizio Versa della birra Addosso a cosina Cosina dice Vado in bagno Così Vado in bagno Ciao zii Vai in bagno E chi c'è What Fashion Ma cosa Adoro comunque Che What Fashion Sia sempre presente Agli eventi mondani Più in Del momento Fantastico Vabbè Togliti la canottiera Urla con voce dura Lui le sbaglia tutte Comunque Lei la toglie Vabbè Lei Poi Però Gli tira anche un calcio Nelle palle Quindi brava Cosina E lui urla E mio Lei intanto esce Tipo dal bagno Dicendo Mi volevano violentare Prendetelo Ma What Fashion La scampa anche stavolta Cosina fugge con Aiden E siamo quasi agli sgoccioli E What Fashion Boh Non si sa Lei pensa Tutto questo disagio Come mi manca Il mio letto comodo E scopre Che ha dimenticato La borsa in bagno Lui Dice I nostri soldi I nostri pochi soldi Come faremo E soprattutto Lui La cima E i nostri documenti Ma Dovevano Non dovevano Dar dell'occhio Si presentano Con i nomi falsi E pensa I documenti veri Cioè E' vero Che servono Per prenotare L'albergo Sti cazzi Però Io I peggiori Peggiori Bonnie and Clyde Della storia Comunque Adoro Vabbè Disagio Però La cosa si sistema lì Nel senso che Loro guardavano al mare Guardano la luna Che trash E Cosino le rivela La storia tragica Della Della ex fidanzata Morta di malattia Si baciano Lei pensa Ora capisco Cosa significa Avere le farfalle Nello stomaco Anche se questi Assomigliano più a un centinaio Di calabroni E Cosina dice Andiamo al mare Tutti al mare Tutti al mare Ma è scema Scema Facciamo il bagno Poi pensa subito Oh no Il reggiseno bagnato È diventato tutto trasparente Io non ho parole È belle È assurdo Vanno in una tavola C'è questa scena Trash Dove Cosino Scommette Che Cosina Non abbia il coraggio Di chiedere il numero Di telefono Al cameriere Lei ce la fa E poi a caso Impazzisce Perché si autoconvince Che Cosino La voglia Solo come scopamica Qua arriva il trash Allora Cosino La porta a San Diego A San Diego C'è l'ex casa Di Cosino E la porta lì Ma sei cretino Cioè Secondo te What Fashion Non sa Che tu Avevi una casa A San Diego Dove ora abita Una tua migliore amica Modella Che si chiama Kendall Come Kendall Jenner Io non ho parole Infatti What Fashion Li trova subito Ma te credo Anche se l'hanno scoperto Da Luke Perché Luke Fa il volta faccia Sto stronzo Vabbè Fatto sta Che Disagio Ma arriviamo al dunque Vanno da Kendall Fanno sesso Sul divano di Kendall Quindi sta povera Crista Oltre ad accoglierli A beccarsi pure La mafia in casa Dopo Si scopre Scopre anche Che il suo divano È stato macchiato Una sostanza E scomode Ok Qui lei scopre Che lui si è fatto Il tatuaggio per lei E ovviamente Arriva a What Fashion What Fashion Che tra l'altro Malmena Gli scagnozzi Malmena No anche la povera Kendall Ma sta povera Kendall Aveva perso la porta Tipo Oh che moda È tornato il mio baby VFF Vieni che facciamo gossip Ah c'è la tua tipa Oh ma che carina Biscottini Evviva Invece da po' Tramordita Dal trash Mi è dispiaciuto Guarda Vabbè What Fashion Questo è il finale Che è l'inizio Che c'era l'inizio What Fashion Punta la pistola su Aiden Ma Che si scopre Che Duke Ha spifferato A What Fashion Che cosa è successo Allora Aiden Attacca What Fashion E la pistola cade Ma scusa Ma What Fashion Ma perché non Gli hai sparato subito Vabbè La Cosina arriva Prende la pistola Ma colpisce E sbaglia Mira E colpisce Aiden Oh no E soprattutto qualcuno Spara Cosina Uno degli scagnozzi L'ha sparato Oh no Ma cosa succederà Lei si sveglia C'è Aiden Si baciano E com'è finita Sta storia Colpo di scena Aiden è morto Cosina Ha ucciso Aiden Per sbaglio Eh ma È un finale geniale Soprattutto quando Sta stronza Sta cretina Di cosina Otto anni dopo Lei ha un figlio E si è sposata Con Tim Che le è interessato Dalla prima pagina Aiden era stato Il ragazzo Che ne aveva fatto Capire chi fosse Tim Il ragazzo Che l'aveva salvata Da un abisso Senza fondo E intanto Il povero Aiden Su nell'abisso Sta rivoltando Nella tomba Cioè È un martire Sto ragazzo Vabbè A parte che è trash È disagio anche lui È un energumeno anche lui Ma mi è quasi dispiaciuto Cioè Cosina Che l'ha messo Nel pericolo Continuamente Lui non è una cima Che l'ha portato Nell'ex casa Eh però Sono sconvolto Allora Non so che altro dire Finisce così Comunque Non so che altro dire È il disagio puro È un disagio Talmente brutto Da essere stupendo È Un capolavoro È il capolavoro Dai tempi di love È dai tempi di love Che non deliravo Così tanto Bellissimo 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 Nella brutte Cioè È Una rivelazione Adoro E Leonora Dimmi ti prego Che l'hai scritto Apposta Perché adorerei tutto Fatto sta che È un libro Trash Trash gravissimo Che però Non mi ha fatto arrabbiare L'ho letto con gusto L'ho veramente letto con gusto Ero Convolto E ha una Comunque Ha un finale Che ribalta Il cliché Cioè Secondo me Nell'intento Dell'autrice Lo dico qui Lo dico ora C'era l'intento Di fare una parodia Dei libri trash E se è così Hai vinto tutto E detto ciò Adoro Tu adoro 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 Basta Tre Sono sconvolto Ciao ragazzi Basta Ciao Ma come si fa Ma come si fa Ciao Ciao